In questi giorni diversi cittadini terramani a seguito del cambio di società di riscossione stanno ricevendo accertamenti tari per poche decine di metri di differenza da parte della nuova società. A segnalare la cosa è l'associazione dei consumatori Robin Hood che non è contro il ricalcolo ma contro il fatto che chi già in passato ha ricevuto un accertamento e si è adeguato dopo anni si è visto arrivare un'ulteriore richiesta di accertamento costringendo così il contribuente a pagare oltre al giusto dovuto già verificato anche le sanzioni. Nel corso degli anni le società sono cambiate, ci sono stati diversi accertamenti e soprattutto i cittadini sono adeguati agli accertamenti per cui se sei, sette anni fa, dieci anni fa l'ufficio del comune mi ha accertato che devo pagare una certa tassazione, nel caso specifico certi metri cubi oggi mi vedo recapitare un accertamento perché quei metri cubi non erano corretti e quindi non mi sembra giusto che il cittadino debba pagare le multe rispetto a questa cosa ovvero se era sbagliato quel calco è giusto che si pagano i metri cubi che devono essere pagati e quindi c'è un adeguamento può essere anche retrattivo dei 5 anni a queste nuove misure, quelle corrette immaginiamo, ma la cosa importante è non far pagare le multe a questi cittadini che non hanno fatto altro che adeguarsi a quello che gli uffici gli avevano detto per cui non è che c'è stata un'iniziativa del cittadino che ha dichiarato meno metri cubi no, il cittadino è stato accertato, gli sono stati accertati quei metri cubi e ha dichiarato quei metri cubi perché oggi deve pagare delle multe per un accertamento che ha fatto la pubblica amministrazione? Per questo motivo l'associazione terramana chiede la politica, in particolare al sindaco di Terramo d'Alberto una correzione, ovvero la mancata applicazione delle sanzioni a chi sottoposto da accertamenti precedenti si era adeguato al sindaco noi chiediamo su intervento affinché laddove i cittadini sono adeguati agli accertamenti precedenti non vengono applicate le sanzioni è consentito dalla legge, l'articolo 10 che lo statuto contribuente lo prevede quindi non chiediamo una cosa fuori legge quindi chiediamo solo un rispetto nei cittadini che non sono plebe ma sono cittadini appunto